In questi ultimi giorni sto sentendo molto forte la necessità di parlare sulla menopausa e avvalorare questo momento così importante per noi donne. Se ancora non mi conosci, io sono Silvia Santinato, sono consulente nutrizionale e da oltre 24 anni con tutto il mio team aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E oggi voglio parlare insieme a te della menopausa, avvalorando questo momento, avvalorando questo momento di passaggio così importante, perché se noi andiamo ad ascoltare quello che ci arriva dall'esterno, se andiamo a osservare quali sono tutti i problemi, diventa sempre un maggiore problema per tutte noi donne. Ma in realtà è un momento di passaggio molto importante ed è un momento di passaggio dal quale dobbiamo dare valore. E io lo valoro con una parola, con la parola inizio. Non so cosa evoca in te questa parola, inizio, se tu poi riesci a collegare la menopausa con un inizio. Unendo queste parole è il valore che io in questo momento mi sento di dare a questo passaggio così importante per tutte noi donne. Dalla mia passione per l'ancestralità femminile, dalla mia passione per aiutare le donne in questo ciclo così importante della propria vita, noto come questa etapa in cui mi trovo anch'io è la chiusura di un grande ciclo, che può essere un ciclo che è durato 40-45 anni di convivenza col nostro ciclo mestruale. E quindi questo ciclo che si chiude si apre uno nuovo. Soltanto che non siamo culturalmente preparate per conoscere questo nuovo inizio, per dar valore a tutto ciò che deve arrivare. Perché se tu l'affronti effettivamente per quello che è, per quello che può brindarti questo periodo, e questo periodo ti può brindare il fatto di connetterti di più con te stessa, ascoltare il tuo corpo, conoscerlo meglio e porti una riflessione. Cosa hai fatto in tutti questi anni di convivenza col tuo ciclo mestruale? Perché oggi hai una nostalgia ovulatoria? Perché oggi puoi tornare indietro? Noi siamo in un ciclo, tutto ciclica la nostra vita. Ed è una spirale. Ma se tu questa spirale lo vuoi far tornare indietro, è impossibile, non è evolutivo. E quindi il fatto di passare a un'altra tappa, che noi sappiamo bene tutto quello che abbiamo passato precedentemente, ma non sappiamo come il nostro corpo inizia a cambiare, come il nostro corpo inizia a percepire una nuova visione, a visualizzare una nuova noi stesse. E quindi quando mancano questi parametri, è inutile talvolta cercarlo solo nell'alimentazione, solo in un integratore, solo in un qualcosa che sia esterno a noi. Lo dobbiamo cercare dentro di noi. Perché quando cessa il ciclo, noi abbiamo questa nostalgia ovulatoria. Anche questi dolori da ciclo, che anche se non ce l'hai, ti continuano. Oppure rimpianci quello che c'è stato. Certe donne non vedono l'ora di passare questo passaggio e lo vivono così serenamente, perché hanno vissuto serenamente tanti altri aspetti della propria vita. E quindi bisogna andare ad avvalorare tanti altri aspetti che precedentemente magari erano andate non così coerente con quello che stavi vivendo. Perché tornare indietro è impossibile. Ma andare avanti con un ciclo nuovo della nostra vita è quello che dobbiamo lavorare. È l'arrivo massimo per tutte noi donne di poter raggiungere questa consapevolezza. Lo so che questo argomento è molto difficile da comprendere quando sei nella negazione, quando ti senti una vittima di questa situazione. In realtà non siamo vittime di questa situazione. È la nostra ciclicità. E se noi consideriamo che la natura ha scelto solo due esemplari femminili per dare questo ciclo, la fine di questo ciclo e per iniziare un altro. Come l'ho scritto anche all'interno del mio libro o meno pausa ancestrale, la natura ha scelto la donna e ha scelto un esemplare, la balena, per dare la chiusura del ciclo mestruale. Perché questo? Perché c'è la necessità di occuparsi della propria prole, di dare conoscenza e saggezza. E questo momento è così importante per noi donne perché noi durante tutta la nostra vita abbiamo acquisito della conoscenza, della consapevolezza, della saggezza. E quando arrivi al massimo di questo periodo, vuol dire che sei pronta per trasmettere tutta questa conoscenza che non è una conoscenza di libri, è una conoscenza di vita. E questo nessuno te lo può togliere. E questo tutti i tuoi figli, i tuoi nipoti hanno la necessità di conoscere questa tua saggezza. Se tu non gli dai importanza e non avvalori questo nuovo ciclo di saggezza del tuo corpo, diventa veramente triste questo passaggio, veramente ti pesa, Veramente quel chilo in più diventa un macigno che fai fatica a tornare indietro, che fai fatica a smaltirlo perché è un peso molto più importante. E quindi ti porto a riflettere verso quale direzione stai prendendo, verso quale direzione il tuo corpo ti sta portando e quale inizio stai ponendo nella tua vita. Pertanto è molto importante che tu ti risponda su alcuni fattori, su alcune direzioni che vuoi prendere nella tua vita. Perché se non ti dai ascolto dentro, come fai ad ascoltare gli altri? Darai ascolto a ciò che non risuona col tuo interno. E quindi è molto importante questa fase. Non ho mai fatto mistero dal fatto che ho vissuto nelle comunità indigene dove ho imparato come affrontare questo periodo della vita. Non faccio mistero sul fatto che sono appena tornata da un incontro con una tribu boliviana nella quale ho imparato molto di più sulla ciclicità della donna, molto di più su come possiamo lavorare su questi aspetti così profondi ma così importanti. E non si tratta di farmaci, non si tratta di integratori, ma si tratta di conoscenza interna, si tratta dell'ascolto di noi stessi. E quindi è molto, molto importante che noi ci focalizziamo su questi aspetti. Voglio da te che mi racconti qui sotto come stai vivendo questo momento, ma soprattutto cosa significa per te un nuovo inizio nella tua vita. Ti aspetto nei prossimi video e voglio leggere, visualizzare i tuoi commenti qui sotto in modo da poter interagire insieme. Ti aspetto nel prossimo video.